Non ci è bastato aprire gli occhi una volta l'anno scorso, c'è infatti ancora fuori un mondo che soffre nella povertà e noi davanti al dramma della povertà non possiamo stare fermi. Quindi carichi di questa consapevolezza abbiamo deciso di riproporre la raccolta di fondi apriamo gli occhi alla scuola e a Bologna e per questo vi invitiamo, invitiamo tutta la città, invitiamo tutti gli studenti a farsi carico di questa iniziativa e di promuoverla e di farla girare. In tutto questo però non siamo soli, infatti anche quest'anno ci terremo a ringraziare alla Banca di Bologna che da doppierà il ricavato di questo mese di raccolta, valorizzando ancora di più un gesto che pur essendo così semplice ci apre al mondo. La campagna inizia oggi il 3 maggio e si concluderà il 3 giugno, avete quindi un mese di tempo per donare e far donare. Potete condividere agli amici, agli zii, ai parenti, ai vicini di casa. Sarà pure una frase fatta ma tutto fa la differenza. L'orizzonte non siamo più noi ma è l'altro. Aiutiamo Bologna e apriamo gli occhi.